Anche la senatrice Stefania Pezzopanne manifesta per le unioni civili. Con quale spirito si unisce a questo movimento? Con lo spirito di chi pensa, e io sono tra questi, che l'Italia sia molto in ritardo e che in tanti altri paesi d'Europa e nel mondo esistono già leggi che determinano i diritti e i doveri delle unioni civili e che queste leggi hanno portato molti aspetti positivi. Nel nostro paese c'è un ritardo, la prossima settimana iniziamo la discussione in Senato per legiferare in questa materia, per colmare un ritardo storico. Da assessore comunale alle politiche sociali io sono stata, assieme ad altri colleghi, consiglieri ed assessori, protagonista di uno dei primi elenchi albi delle unioni civili di una città del mezzogiorno, fui io a portare la delibera in consiglio comunale. Però quelle delibere non hanno nessun effetto senza una legge. E questa legge riconosce i diritti e i doveri delle coppie che si uniscono non in matrimonio ma attraverso altri principi giuridici che però determinano appunto diritti e doveri. Entra in gioco in questa legge una problematica molto delicata che è quella dei bimbi che sono già presenti, già nati, nella formazione di queste coppie. Quindi tra due persone, se uno dei due o entrambi hanno dei figli provenienti da relazioni precedenti, nella legge si propone che possano essere adottati. E su questo c'è ancora un dibattito molto aperto, molto delicato, soprattutto per le conseguenze che potrebbe avere la pratica dell'utero in affitto o maternità surrogata, come viene chiamata, che è una pratica che giustamente e fortemente è vietata in Italia ma non in altri paesi. Quindi siamo ancora alla ricerca di un equilibrio ma già questa legge fa un passo avanti molto grande, molto importante. Io la sostengo.